Aspetta, aspetta, che natalizio! Io odio il Natale! Che figa! Sono fortissima, vero? Sì! Ecco, questo è un nodo ben fatto! Domani chi viene a presentare la scuola all'università? Io! Guarda che faccia la faccia! Che faccia la faccia? Che faccia la faccia? Figo! Devi fare una faccia normale! Notare dietro l'ale che è fuori, vabbè! Vai, poi, quando vuoi! Sei stupido! Sì! 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 ma lei ma non ce lo dà una parte Scusa, scusa. No, un minuto più santo! 17.000 anni fa, nella preistoria...